I fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buona Pasqua, buona Pasqua, che grande gioia potervi dare questo annuncio. Cristo è risorto. Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente dove c'è più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri. Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole seminare questa buona notizia. Gesù è risorto. E' la gran alegria il comienzo di questo ministerio, darvi questo annuncio, Cristo ha risuscitato e che si era arrivato a tutte le casate, a tutte le famiglie, specialmente dove c'è sofferenza, in hospitali, in carceri. Quiero dire che ha venuto il amore, ha triunfato la misericordia, anche noi, come le donne di Gesù, che fuero al sepulcro e lo trovaron vacio, possiamo spiegare che sentito ha questo evento, che significa che Gesù ha risuscitato, significa che il amore di Dio è più forte del male della stessa. Significa che il amore di Dio può trasformare le nostre vidi, e fare afflare le zone di deserto che ci sono in nostro corpo. E questo lo può fare il amore di Dio. Ese stesso amore per cui il Hijo di Dio si è stato un amore, 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 si è stato un amore per la senda della humildà e della entrega di si stesso, fino a l'abismo della separazione di Dio. Ese amore misericordioso che ha inundato di luce il corpo morto di Gesù e lo ha trasfigurato, lo ha fatto passare a la vita eterna. Gesù non è tornato a la vita di prima. Gesù non è tornato a la vita terrenale. Ha entrato in la vita gloriosa di Dio e ha entrato con la nostra humanità e ha entrato in la nostra humanità, abriendonos un futuro di esperanza. E qui lo che è la Pasqua, il èxodo, il passo del hombre della esclavitud del peccato e del mal a la libertà del amor e la bondà. Perché Dio è vita, solo vita. e la sua gloria siamo noi, il hombre vivo. e il tempo. E qui è stato un amore, il passo del mal a la libertà del ben deve ponersi in pratica in tutti i tempi, in i momenti concreti di nostra vita, in nostra vita diaria. Quanti desierti deve attraversare il sero umano, anche oggi, soprattutto il desierto che sta dentro di lui, quando falta il amore di Dio e del prossimo, quando non si è consciente di essere custodio di tutto quello che il Criatore ci ha dato e ci ha dato. Ma la misericordia di Dio può far fiorire anche la terra più arida, può dare vita a leosa e inarribile. Però la misericordia di Dio può far fiorire anche la terra più arida e far far fiorire anche la terra più arida. Questa è qui la invitazione che os faccio a tutti. Acogemo la grazia della risurrezione di Cristo. Devemosi renovare la misericordia di Dio. Devemosi che la forza di suo amore transforme le nostre vidi e siamo instrumenti di questa misericordia. e così domandiamo a Gesù risorto che transforma la morte in vita di mutare l'odio in amore la vendetta in perdono e pediamo a Gesù risorto che transforme la nostra vita che cambia il odio in amore la venganza in perdono e la guerra in paz. Cristo è nostra paz e a través di lui vamos a implorare la paz per il mondo entero. Paz per il Medio Oriente paz per il Medio Oriente e in particolare tra israeliani e palestini che hanno tantissime difficoltà per trovare il cammino di la concordia per la sua popolazione per la sua popolazione herida per il conflitto e con tantissimi rifugiati che stanno esperando ayuda e consolo quanta sangue si ha derramato e quanta sofferenza e quanta dolor si ha de causare ancora prima che si riesce a trovare una soluzione a questa crisi paz per l'Àfrica paz per l'Àfrica e dove molti persone e incluso niente stanno stanno reheni di gruppi terroristi paz per l'Àfrica della Repubblica democràtica del Congo e in la Repubblica centroafricana paz per l'Àfrica dove molti si ven obligati a ese éxodo a abandonar sus hogares e viven todavía con miedo paz en Asia soprattutto nella península coreana soprattutto per che superi le divergenci e madur un renovato spirito di reconciliazione paz a todo il mondo tan dividido la vività per la codicia di chi nobody busca facile ganancias es un mondo herido per l'egoismo che amenazano la vita humana e la familia Ese egoismo che continua alla trattata di persone, la trattata di persone, la trattata di persone, la trattata di persone è proprio la trattata di persone, la trattata di persone, la plaga, il horror di questo segno. Paz a questa terra, di questo mondo, che sta legato al tráfico di droghi e alla explotazione iniqua di i ricursi naturali. Paz a questa terra, a questa terra nostra. Che Gesù risultato trai consolo a chi sono vittime di calamità naturali e che ci faccia custodiosi responsabili della cruzazione. Paz a tutti voi e mi ascoltate da Roma e per tutto il mondo, os dirijo la imitazione del salto. Prendete grazie al Signore perché è buono, perché è eterna su misericordia e dica la casa di Israele, eterna è su misericordia. Palabras del Papa, che come appuntavamo al principio, ci va a dare ora la bendizione. Queridosi, hermani, hermanas, llegadas di tutti i luoghi del mondo in questa plazza, centro della cristandà, e a tutti voi, che stai uniti con noi, io os voglio renovare il mio deseo di una felice Pascua. Llevate a vostre famiglia e a vostri paesi il messaggio di alegria, di esperanza e di paz, che ogni anno, in questo giorno, si rinnova con fortuna. Il Signore risortato, vencedor della morte e del peccato, os aiude e os aliente a tutti e sostenere soprattutto a tutti i più debili e necessitati. Grazie per la vostra presenza e la testimonianza di vostra fe, un pensiero e un grazie speciale per il don tan bello di queste flore che mi hanno arrivato dai paesi bassi. E a tutti, os repito, a tutti, il Signore, os bendiga e os lleve e conduzca por senderos di justicia, di paz e di amor. Grazie per la vostra presenza. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.